Il benvenuto a Stefania Radoccia, ospite della rubrica cura di dire donne, donne al comando. La dottoressa Radoccia è attuale managing partner dell'area tax and law di EY in Italia e ha il ruolo di med regional account leader, questo è l'ultimo riconoscimento, entrando quindi a far parte con questo incarico della leadership dell'area mediterranea di EY. Dottoressa Radoccia, innanzitutto benvenuta. Grazie molte dell'invito, è un piacere. Ecco, io vorrei che lei ci dicesse qualcosa del suo attuale incarico e anche poi del suo quotidiano, qual è il suo lavoro di ogni giorno, anche perché lei è una delle prime donne in Italia al vertice di una law firm, quindi se ci può spiegare, grazie. Sì, molto volentieri. Ma intanto io sono molto felice, non solo dell'invito, ma di essere una delle prime donne al vertice di uno studio così importante e internazionale. Il mio lavoro è quello del managing partner, è uno studio di 600 professionisti, più o meno, forse un po' di più quest'anno. È uno studio di professionisti internazionali che si occupano sia di tematiche fiscali che tematiche legali, a tutto tondo, per società multinazionali e società italiane rilevanti. Quindi, come dire, gestire i professionisti non è un compito facile, perché tutti noi professionisti siamo prime donne, anche gli uomini, e quindi mettere d'accordo uno studio di 600 persone è un ruolo.